eccoci all'introduzione delle varie tipologie di tracce che possiamo incontrare in Cubase le analizzeremo poi nel dettaglio nei successivi capitoli ma iniziamo a capire cosa sono le tracce finora abbiamo detto che appunto per noi questa zona centrale è quella che ci permetterà di spostare incollare e registrare eventi audio midi quindi sfruttando magari virtual instrument strumenti virtuali o anche semplicemente applicare degli effetti alle nostre tracce abbiamo bisogno delle tracce che sono appunto dei delle sezioni che ci permettono di includere al loro interno determinate informazioni in questo spazio noi avremo tutto l'elenco delle tracce che possiamo utilizzare possiamo aprire una nuova traccia utilizzando il più o tasto destro in questa zona quindi solo in questa colonna oppure progetto aggiungi una traccia troviamo esattamente le stesse informazioni queste tracce saranno di diversa tipologia in base alle nostre esigenze in base al lavoro che stiamo svolgendo in quel momento le vediamo una a una velocemente perché appunto è un'introduzione le tracce audio ci servono per registrare dei suoni registrare degli strumenti o registrare una voce oppure una stessa traccia audio potrebbe essere una traccia che è un brano che viene importato dentro qbase qua sotto in base alla tipologia di traccia selezionata troviamo alcune impostazioni lo faremo poi bene nel momento in cui andremo a registrare le tracce instrument sono gli strumenti virtuali quindi invece di utilizzare ardor esterni come può essere una tastiera una workstation può essere semplicemente un sintetizzatore in questo caso utilizzeremo dei plugin che possono far parte di cubase o possono essere esterni che sfrutteremo ad esempio attraverso il protocollo midi quindi potremmo avere una tastiera che ci permette di suonare con i suoni situati all'interno del computer questi fan parte tutti del mondo dei virtuali instrument la traccia campionatore è una traccia che viene utilizzata per prendere dei frammenti di audio ad esempio da una registrazione da un brano oppure dei sample e poterli risuonare con la tastiera midi quindi in modo artificiale attraverso un sistema di gestione del sample midi in origine non esistevano le tracce instrument quindi bisognava sfruttare le tracce midi attualmente le tracce midi vengono utilizzate un po meno da quando c'è la traccia instrument in ogni caso le tracce midi sono il sistema di collegamento di base tra uno strumento virtuale e il nostro modo di scrivere la musica attraverso cubase quindi ci possono ancora essere dei casi in cui una semplice traccia midi può essere utilizzata per operazioni basilari comunque vi rimando poi all'utilizzo di tracce instrument troviamo poi le tracce gruppo queste ci serviranno per racchiudere più tracce all'interno di un'unica traccia ovvero il processo del segnale avverrà in modo che alcune tracce confluiscano tutte insieme dentro una traccia che le conterrà tutte questo a livello di segnale sono molto comode per gestire in modo semplice gruppi di strumenti ad esempio tutti i componenti di una batteria possono finire all'interno di una traccia gruppo chiamato batteria stessa cosa per le voci o per i cori quindi più tracce magari della stessa tipologia che confluiscono in un'unica traccia sarà molto più semplice ad esempio gestire gli effetti o semplicemente il volume tracce effetto molto importante perché ci permetterà di aggiungere degli effetti alle tracce che abbiamo creato quindi ad esempio se vogliamo sfruttare un riverbero da applicare sulle tracce del nostro brano tracce vca invece sono delle tracce che ci permettono attraverso un controllo di comandare più fader insieme ci possono essere dei grandi benefici per ora è una tecnica avanzata che non utilizziamo i marker è una traccia che ci permetterà come vedremo tra poco di gestire all'interno dei progetti delle sezioni chiamiamo le bandierine che ci permettono di segnalare in alcuni punti alcune informazioni principali o di suddividere in più parti uno stesso brano la traccia righello invece ci servirà per aggiungere un altro righello in base a quello che troviamo qua in alto lo vedremo successivamente troviamo infine la traccia cartella che ci permette di creare una cartella che conterrà più cartelle in questo caso non è uguale a una traccia gruppo ma è semplicemente una cartella che viene creata quindi uno spazio che ci permetterà di unire più tracce a livello visivo in ogni caso analizzeremo tutto in dettaglio man mano che andremo avanti con il corso ciao è disponibile il corso base di cubase trovate il link qui sotto in descrizione questo corso dura circa nove ore ed è utile a tutti quelli che si affacciano per la prima volta al mondo di cubase ma anche per chi desidera studiare nel dettaglio alcune funzioni e tutto quello che riguarda l'utilizzo di base e di medio livello di questa digital audio workstation vi invito a guardare la pagina e a verificare tutti gli argomenti disponibili all'interno del corso per valutare se può essere un prodotto adatto a voi ciao